Un detenuto poco più che ventenne di nazionalità italiana appartenente ad etnia rom ha provato a farla finita nella serata della 10 di agosto scorso tentando il suicidio mediante impiccagione nel carcere di Potenza utilizzando pezzi di lenzuola annodate poi legate alle inferriate della cella. Due assistenti capo coordinatori della polizia penitenziaria dell'istituto Potentino si sono immediatamente attivati salvandogli la vita. A riferirlo il segretario regionale Sappe per la Basilicata Saverio Brienza che esprime il plauso ai due assistenti capo intervenuti Matteo Messuti e Francesco Stabile sottolineando ancora una volta come la vicenda riveli il tema della scarsa attenzione che il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed il provveditorato regionale di Puglia e Basilicata pone nei confronti degli istituti penitenziari lucani. Pochi agenti dice vengono assegnati da anni in Basilicata riducendo i nostri istituti a luoghi di enormi sacrifici e impegno da parte della polizia penitenziaria costretta a turni massacranti e orari fuori ogni regola contrattuale. Da Donato Capece segretario generale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria l'invito al ministro della giustizia Carlo Nordio ad attivare da subito un tavolo permanente sulle criticità delle carceri che vedono ogni giorno la polizia penitenziaria farsi carico di problematiche che vanno ben oltre i propri compiti istituzionali spesso abbandonata a se stessa dal suo stesso ruolo apicale. La via più netta e radicale aggiunge per eliminare tutti questi disagi sarebbe quella di un ripensamento complessivo della funzione della pena e al suo interno del ruolo del carcere. Anche la consistente presenza di detenuti con problemi psichiatrici sottolinea chiude e causa da tempo di gravi criticità per quanto attiene l'ordine e la sicurezza delle carceri di tutto il paese.